Minchia Patrizia, ti ringrazio. Però riprendi, mi sono fatto ispirare da una piccola aquila oggi. Alla fine le cose belle del disegno sono due, più o meno. La prima è che sfoga la tua creatività e la seconda è che non ti rompe il cazzo nessuno. E puoi godere di quella misantropia repressa. Poi gli animali sono clamorosi da disegnare, danno troppa ispirazione e boh, sono mezzi infiniti. E vai e vola piccola aquila senza cielo.